Buon pomeriggio, benvenuti di nuovo per chi c'era già questo incontro del sabato del Food and Science Festival, manifestazione che è giunta alla quinta edizione, il tema dell'edizione di quest'anno è la nuova stagione e abbiamo provato nel programma a raccontare il nuovo che c'è in tanti settori diversi dell'agricoltura e della produzione degli alimenti. Oggi in questo incontro di questo pomeriggio che modererò io parleremo di una tecnica che è molto vecchia, parlando di nuovo è una tecnica molto molto antica ma che ha degli sviluppi che sono molto innovativi e cercheremo di ripercorrere un po' la storia della fermentazione attraverso appunto le epoche per arrivare all'oggi e magari provare a guardare anche al domani. Iniziamo in realtà in maniera giocosa e vi chiederemo di giocare, ci saranno come si dice in queste occasioni ricchi premi, nel senso che c'è fisicamente un premio, anzi tre premi, mi confermano, tre premi per i primi tre classificati in un quiz, vi chiederemo di partecipare con i vostri cellulari se avete degli smartphone, se non ce l'avete pazienza, non potete vincere, però potete partecipare così in spirito oppure giocare con il vostro vicino, quindi ci sarà un quiz con qualche domanda e alla fine proclameremo il vincitore. L'incontro di oggi, lo dico subito, è organizzato in collaborazione con Christian Hansen, un'azienda leader nel settore delle fermentazioni e della produzione di batteri, lieviti, tutte queste cose che servono per fare le fermentazioni e che da quest'anno è partner del festival e noi siamo particolarmente contenti che lo siano. Il quiz non lo conduco io, per vostra fortuna, ma lo conducono due bravissime divulgatrici, un po' giornaliste, un po' nutrizioniste, insomma due personaggi che hanno una formazione tecnica, scientifica e che però hanno fatto del racconto della scienza il loro mestiere e sono Alessandra Biondi-Bartolini e Antonella Losa a cui chiedo di salire sul palco e che sono tra le altre cose. Eccola. Grazie. Buongiorno. Adesso vi lascio il palco, dico solo che Antonella e Alessandra sono autrici di un podcast che si chiama C'è fermento? Storie di uomini e microbi che racconta proprio alcune delle storie in maniera ovviamente più approfondita che toccheremo oggi, per cui se siete ascoltatori del podcast forse avete un vantaggio nel quiz, altrimenti vi verrà la curiosità per andare a scoprire qualcosa di più. Quindi spiegateci come funziona questo gioco. Allora, cominciamo a spiegare come funziona questo gioco. Intanto dovete collegarvi con l'app Kahoot e inserire il pin che vedete qua sopra in modo da entrare nel gioco. Man mano che entrate i vostri nickname o i vostri nomi, scegliete voi chi siete, compaiono qua. Quindi praticamente in questo momento non c'è nessuno che sta giocando. Dovete aprire un browser, Chrome, Safari, a seconda di quello che avete, scrivere www.kahoot.it e poi scrivere il pin, questo codice che è 3715773. Ci sono anche gli amici che ci seguono in streaming, partecipano anche loro, quindi anche da fuori con Kahoot si possono collegare e stanno diventando tanti. Che cosa si farà? Intanto questo è un gioco, l'abbiamo chiamato gioco aperitivo perché è un gioco in cui ci si conquista l'aperitivo come quei giochi che si fanno nei villaggi turistici all'ora dell'aperitivo, ora è un po' presto, però insomma va bene lo stesso. E per conquistarsi l'aperitivo faremo delle domande su degli alimenti e su delle bevande in modo che alla fine potrete avere una bevuta e un alimento, qualcosa da mettere sotto i denti. Che cosa hanno in comune gli alimenti e le bevande di cui parleremo e su cui vi interrogheremo? Sono tutti bevande e alimenti che sono ottenuti da un processo di fermentazione, ovvero che da secoli, anzi da millenni, gli uomini e i popoli ottengono con l'aiuto dei microrganismi, gli aviti e batteri, che hanno fatto questo percorso parallelo alla nostra storia, finché a un certo punto non li si sono scoperti, ma loro lavoravano già per noi, inconsapevolmente ovviamente, non li si sono scoperti e quindi quello che è stata l'esperienza e l'applicazione empirica è diventata applicazione scientifica e poi applicazione industriale. Cosa faremo? Vi proponiamo per ogni alimento o bevanda quattro personaggi e vi chiederemo chi di questi ha incrociato la sua storia e la sua vita con gli alimenti fermentati che sono oggetto della domanda. Prima di tutto, naturalmente, parleremo di bevande alcoliche e facciamo un richiamo a quello che è un consumo consapevole degli alcolici, ritenendo in maniera convinta che ovviamente il consumo di alcolici, quando accompagnato alla conoscenza e al sapere e alle storie, è sicuramente un consumo più consapevole, che poi deve essere ovviamente anche moderato. Siamo a quasi 110, io magari scendo dal palco, vado là e manovro il quiz, vorrei solo far notare che abbiamo già una persona avvantaggiata perché malolattica secondo me qualcosa sa. Malolattica, abbiamo anche battiato, Coca-Cola che non è una bevanda fermentata nonostante le bollicine e aspettiamo anche Davide Birraio, gioca in casa. Mi sa che almeno una la becca, Davide Birraio, occhio e croce. Non so, sono 109, partiamo. Partiamo. Quindi inizia. Allora tutto quello che c'era da dirvi sul come si svolge il gioco, l'abbiamo detto, quindi 3, 2, 1, via. Questo è la copertina del nostro podcast, ma passiamo subito alla prima domanda che è di Antonella e parla. Vediamo chi di questi personaggi è entrato nella storia o nella scienza del pane tra San Francesco, Tutankhamon, un cercatore d'oro e Papa Innocenzo III. Vediamo un po'. Quindi siamo tra l'Egitto, il vecchio West, il nostro Medioevo, Papa Innocenzo III era quello che ha avuto che fare un po' con San Francesco, quindi la zona è quella lì. Vediamo un pochino. Allora, tutti su Tutankhamon e pochissimi sui cercatori d'oro del vecchio West, che invece sono quelli che la sanno lunga, la sanno veramente lunga sul pane. E adesso vediamo un'immagine di repertorio. Allora, intanto sbanca Harry qui così. Harry e Sara la fan tutta. Allora, un'immagine di repertorio. Eccolo lui. Questo cercatore d'oro ci piace tanto perché in realtà è un pupazzo. Questo è una mascotte, la mascotte dei San Francisco 49ers, non so se qualcuno segue. San Francisco perché quella era la città base da cui partivano i cercatori d'oro. 49ers, il 1849, è l'anno clou proprio della corsa all'oro. Questo mascotte si chiama Saurdo Sam, Sam Pasta Madre, perché in quei tempi Pasta Madre era diventato il sinonimo di cercatore d'oro. E questo succedeva perché i minatori si portavano con sé la Pasta Madre, perché loro partivano da San Francisco, andavano sulla Sierra Nevada, ci stavano per un lungo tempo. Quindi ogni tanto con la Pasta Madre potevano farsi del pane e del pane che rimaneva per tanti giorni, a differenza di quello fatto con il solo lievito. Inizia così una tradizione che la portano gli europei in America. Infatti non è un po' controintuitivo pensare all'America e al pane fatto con la Pasta Madre, ma la gran parte dei cercatori d'oro erano immigrati e tanti migravano dall'Europa. Ed è dal nord della Spagna che arrivano coloro che portano appunto la Pasta Madre. E inizia una tradizione che va avanti ancora oggi a San Francisco come panificazione diversa da tutto il resto d'America. Quindi loro iniziano questa tradizione e lo usano così tanto che appunto il soprannome diventa Pasta Madre. Una delle Paste Madre che è stata per prima poi studiata anche a livello microbiologico e si è visto che il grande dei giochi lo faceva un lato bacillo nella fermentazione e lievitazione di questo pane. Un lato bacillo che quindi prende proprio il nome di Lactobacillus San Francisco. Perché sì, nella Pasta Madre, a differenza di quando lievitiamo col solo lievito, ci sono tantissimi Lactobacilli. Allora, cosa comporta questo? Quando lievitiamo con il solo lievito, è solo lievito e uno solo. Il Saccharomyces cerevisiae, che è bravissimo a fare una cosa che è gonfiare. Lui produce dagli zuccheri che arrivano dalla farina tantissima CO2 e questa gonfia il pane. splendido. Però si ottiene un pane che ha una vita abbastanza breve. Mentre con la Pasta Madre si ha un pane un po' meno gonfio, ma che resiste più a lungo. Questo perché nella Pasta Madre c'è un rapporto 10 a 1 tra Lactobacilli e lieviti. I lieviti sono in netta minoranza e il cerevisiae è in netta minoranza tra i lieviti. Cosa fanno i Lactobacilli? Acidificano. Mangiano anche loro gli zuccheri che arrivano dalla farina, ma producono acidi. E questo è meraviglioso perché abbassando molto il pH succede che l'ambiente che si forma è assolutamente poco ospitale per tutti i batteri o microrganismi che non desideriamo. Per questo motivo il pane fatto con la Pasta Madre è più salubre ed è anche conservabile un po' più a lungo. Perfetto. Quindi andiamo avanti e la domanda successiva, abbiamo qualcosa da mangiare e adesso prenderemo qualcosa da bere. Chi fra questi è entrato nella storia o nella scienza del vino? E abbiamo Napoleone III, Cristoforo Colombo, Einstein o Rudolf Steiner. Quindi la storia del vino ovviamente è millenaria, abbiamo dei personaggi diciamo mediamente abbastanza moderni, a parte Cristoforo Colombo, ma abbastanza moderni. Però qualcuno di loro ha avuto un ruolo nella storia o nella scienza del vino. Eccoci. Allora, vince Rudolf Steiner e invece la risposta giusta è Napoleone III. Rudolf Steiner è l'inventore dell'agricoltura biodinamica, in realtà non parla mai di vino, anzi non ritiene le trasformazioni adatte alla viticoltura biodinamica. Quindi per Rudolf Steiner al tempo l'unico prodotto biodinamico può essere l'uva, il succo d'uva, quindi un prodotto diretto della terra. Invece ha una relazione con la scoperta dei lieviti, dei processi di fermentazione, dei microrganismi di alterazione del vino, Napoleone III. Vediamo perché, perché Napoleone III non è né un scienziato né un produttore di vino. Vediamo intanto com'è andata. Continua. C'è un ribaltamento, però si ha un passaggio in alto. Quindi andiamo avanti, parliamo di Napoleone III. Napoleone III è il finanziatore di Louis Pasteur. Il motivo è un motivo prettamente commerciale e politico. Napoleone III intorno al 1860 ha un problema di mercato per i vini francesi. I vini francesi hanno avuto un'impennata nelle produzioni e hanno qualche problema di qualità in quel momento. Quindi, soprattutto, quando vengono esportati all'estero, perché facilmente si alterano, cioè vanno incontro a delle alterazioni. Diventa nascetto molto semplicemente, nella migliore delle ipotesi. Napoleone III affronta la cosa rivolgendosi alla scienza e ha anche abbastanza fortuna, perché ha fra le mani, davanti a lui, e ha niente po' di meno che Louis Pasteur. E quindi gli affronta, gli rivolge questa domanda e gli chiede di risolvere questo problema. Louis Pasteur si attrezza, quindi mette su un laboratorio, perché il grant di Napoleone III è cospicuo, mette su un laboratorio, inventa vetreria apposta, fa centinaia e centinaia di osservazioni e, alla fine di questo, non solo definitivamente spiega quelli che sono i meccanismi della fermentazione, non dal punto di vista chimico, che già si conoscevano molto bene, ma dal punto di vista biologico, non è il primo a osservare i lieviti e a pensare che abbiano una relazione con i meccanismi di fermentazione, ma mette una pietra su tutti quelli che potevano essere coloro che sostenevano che non fosse un processo causato, pensavano che fosse un processo chimico e quindi che si trattasse di i fautori della generazione spontanea, ma scopre anche tutti quelli che sono microrganismi di alterazione, non tutti ovviamente, ma anche i microrganismi di alterazione del vino e scopre in modo particolare che non sono i lieviti, ma sono i batteri che provocano queste alterazioni che causavano l'alterazione del vino che dovevano risolvere i produttori francesi e, non solo, ma individua anche una soluzione industriale e tecnologica per risolvere questi problemi. Siccome Pasteur eccella in tutto assolutamente, meno che in modestia, gli dà il suo nome e quindi la chiama pastorizzazione che è una tecnica inventata per risolvere problemi di alterazione del vino e non del latte come si pensa in genere. Quindi, Napoleone III era l'oculio che vinceva, abbiamo un bicchiere di vino e un po' di pane e andiamo avanti. Andiamo avanti sempre con qualcosa che ci assomiglia al vino, che è un vino di fatto, giusto? Esatto. Continua a toccare a me. Andiamo avanti con un altro prodotto che si può mettere nel nostro aperitivo e che è il vino spumante, cioè chi fra queste persone, che sono tutte signore, ha intrecciato la sua storia con lo spumante, Coco Chanel, c'era la principessa Sissi, Madame Barbe Clicoppo Ponsardenne e la contessa Agata Barberini-Pizzotti. Allora, è andata bene, fra gli altri personaggi la contessa Agata Barberini-Pizzotti non esiste. E vince, però qualcuno l'ha votata, vince Madame Barbe Clicoppo Ponsardenne, che è la vedova Clicoppo, la Veve Clicoppo, quindi è una delle fondatrici, la fondatrice della casa della Maison di Champagne, Veve Clicoppo. Barbe Clicoppo Ponsardenne, andiamo avanti, la vediamo anche che è una bella signora. Valerio tallonato da Davide. Andiamo avanti, eccola. Barbe Clicoppo Ponsardenne nasce nel 1777 a Reims, è una, quindi a cavallo della rivoluzione francese e rimane vedova, sposa un produttore di champagne, è il momento in cui lo champagne è nato e comincia ad essere un prodotto commerciale conosciutissimo, soprattutto in Inghilterra e amato anche in Russia. Questo François Clicoppo muore quando lei ha 27 anni. Tutti si aspettano che Barbe Clicoppo Ponsardenne venda la Maison e si risposi come poteva essere normale. Lei ne si risposa, ne vende la Maison, ne prende le redini e diventa un'imprenditrice illuminata perché non soltanto sviluppa delle rotte commerciali assolutamente originali, addirittura superando il blocco napoleonico e portando lo champagne nella Russia degli zar dove viene molto apprezzato via mare, quindi attraverso il Mal Baltico, ma anche sviluppa delle strategie di marketing, produce delle edizioni speciali, l'edizione della Cometa per l'anno della Grande Cometa, il primo champagne rosato, produce vini diversi, per esempio in contenuto di zuccheri a seconda dei gusti dei paesi dei consumatori, cioè in Russia spedisce del vino molto più dolce rispetto a quello più secco che viene apprezzato in champagne, ma anche in Inghilterra. Al punto di vista tecnico inventa una tecnica che è la tecnica che ci permette di bere dello champagne e dello spumante limpido, perché lo champagne deriva dalla doppia fermentazione del vino, quindi è un vino che viene rinoculato con i lieviti della fermentazione alcolica saccharomyces cerevisie, aggiunto di zuccheri e il prodotto che a questo punto ci interessa, che è l'anidride carbonica, si sviluppa all'interno di un ambiente confinato e quindi sviluppa pressione e quando si apre sviluppa le bollicine. Ma il lievito è dentro la bottiglia, per cui il vino sarebbe torbido. E Barbicot, insieme ai suoi tecnici, inventa quel strumento che vedete quando andate a visitare le cantine, che si chiama Pupitre, che è quel cavalletto inclinato dove si pongono le bottiglie che progressivamente vengono inclinate per portare i lieviti tutti sulla punta e poi vengono eliminati con una curazione che si chiama de gaugement. Quindi lo spumante, anzi lo champagne, lo abbiamo messo nel nostro aperitivo e possiamo andare avanti. Allora bere abbiamo bevuto, mangiamo qualcosa, altrimenti si sa che è ebbezza. Allora formaggio, chi di questi personaggi c'entra col formaggio? Charlie Chaplin, fra Bernardo di Chiaravalle, la principessa Sissi o Victor Hugo. Quindi anche qui spaziamo un po' per tutta Europa e oltre. Vediamo un po' chi vincerà tra queste. Abbiamo religiosi e meno religiosi, abbiamo deletterati. Vediamo per chi batte il vostro cuore. Dove andiamo? Dove andiamo? Perfetto, perfetto, perfetto. Allora i cistercensi. Allora intanto prima vediamo la classifica come si sta muovendo. Valerio, niente, Davide, Davide ha superato Valerio, siamo al photo finish veramente. Allora vediamo cosa hanno fatto i cistercensi quindi. Ok, i cistercensi un millennio di anni fa si spostano da Cluny e vengono in Val Padana e tappezzano la Val Padana di Abazie, come sappiamo, tutte in posti o sia assolati, pensiamo a Mirafiore, Chiaravalle e anche con un buon approvvigionamento di acqua. Fonte vivo, i nomi dicono già molto. Questo perché? Perché questo mix di elementi permetteva a loro, nelle biazie di questa congregazione c'erano sempre dei grandissimi possedimenti all'agricoltura, quindi c'era bisogno di irrigazione e c'era bisogno di dar da mangiare bene agli animali da Soma che erano bovini. Bene, questo mix di elementi consentiva di avere del foraggio già molto buono, molto nutriente, a partire già dal mese di marzo. Quindi questo serviva per l'agricoltura, per gli animali da Soma e quindi anche per le vacche. Vacche che quindi, dopo i parti primaverili, si trovavano ad avere un latte molto grasso e in abbondanza, ma naturalmente nelle abiazie non si poteva buttare via niente e questo latte era molto di più di quello che poteva servire per il sostentamento dei frati. Allora hanno messo in atto una tecnica di conservazione del latte, che è la caseificazione e in particolare la caseificazione fatta come loro l'avevano sviluppata in Borgogna. Ed è così che nasce il nostro grana, che nella nostra storia è il primo importante formaggio di latte di vacca, perché fino ad allora, il formaggio lo avevamo dai tempi dei Romani e via andare, ma era in grandissima parte caprino e pecorino. Ecco il grana che comincia la storia del formaggio di latte di vacca. Siamo quindi un millennio di anni fa. Questo grana non è il grana di oggi, fino a fine Ottocento ha diversi problemi. Il più grosso è quello del gonfiore tardivo, quindi una volta che è già nelle forme che maturano, queste forme, un'ottima parte purtroppo di queste forme si gonfia. Se gonfia il contenuto si spacca in delle crepe molto ampie, diventa spugnoso e anche maleodorante, perché durante la maturazione succedeva che gozzovigliavano, quindi crescevano microrganismi che non erano desiderati, che non vanno bene. Le sorti cambiano a fine Ottocento, quando un personaggio che si chiama Giuseppe Notari, Casaro, lui è figlio di Casari, fa delle osservazioni molto pragmatiche che incuriosiscono molto Pellegrino Spallanzani, quindi dalla loro collaborazione, quindi uomo di pratica e uomo di scienza, nasce la tecnica del siero innesto, che cambia completamente la storia di questo formaggio. Il siero innesto significa prendo il siero, che è lo scarto di produzione della sera prima, lo lascio lì una notte e il mattino dopo lo metto in caldaia con la produzione del formaggio del giorno dopo. Cosa succede durante la notte? Che nel siero innesto, dell'atto bacilli e in particolare in questo caso l'actobacillus selveticus acidificano moltissimo quell'ambiente e prolificano in modo tale che una volta che li rimetto in caldaia tutto l'ambiente della caldaia diventa acido a sufficienza per rendere veramente la vita molto difficile proprio a quei microrganismi che mi avrebbero creato poi in futuro il problema del gonfiore tardivo. Quindi da un anno all'altro, come viene impiegato il siero innesto, le forme che buttano via, che vengono scartate, diminuiscono di oltre il 50% e aumentano nella stessa proporzione le forme di prima qualità. Quindi il guadagno dell'allevatore, del casaro, raddoppia nel giro di un anno e finalmente diventa un mercato che ha più senso. Da lì lo sviluppo, poi non si è mai frenato, di questo fantastico formaggio. Quindi con il formaggio abbiamo concluso, a cosa passiamo? Con il formaggio abbiamo concluso e naturalmente qualcuno può scegliere di bere una birra. Per la storia della birra scegliamo fra il Leprechaun, che è il folletto irlandese, la Principessa Sissi, Santa Arnolfo e Santa Brigida o George Washington. Quindi abbiamo personaggi del nord Europa e George Washington, un personaggio americano. Chi ha intrecciato la sua storia con la storia della birra? Allora, Santa Arnolfo e Santa Brigida è la risposta giusta. Santa Arnolfo, qualcuno ha anche pensato al folletto, che in realtà probabilmente è un consumatore di birra, quasi sicuramente, ma diciamo che non entra nella storia della birra. La Principessa Sissi comunque continua ad avere degli estimatori. È giustamente. È giustamente, se li merita. Santa Arnolfo e Santa Brigida sono i santi del culto e della devozione dei paesi del nord Europa. Santa Brigida è la patrona degli irlandesi, Santa Brigida da Kilder, e Santa Arnolfo è il protettore dei birrai. Quindi una irlandese, Santa Arnolfo invece è di Metz, Santa Arnolfo da Metz. In realtà nella storia ci sono diversi Santa Arnolfo. e perché ci sono dei santi legati alla storia della birra. Anzitutto sappiamo che la bevanda alcolica della chiesa è il vino. Però quando la chiesa e la religione cristiana arrisa nei paesi del nord, trova già un grande consumo di birra e quindi chiude un po' un occhio. Quindi la birra per i paesi del nord è un po' anche già un simbolo di indipendenza da Roma. Ma c'è anche un altro motivo per cui questi santi e nei loro miracoli e nelle loro storie di santi ci sono tutto un fiorire di miracoli in cui loro trasformano l'acqua in birra. Vi faccio un esempio. Santa Brigida a un certo punto accoglie un pellegrino. Il pellegrino ovviamente viene accolto, fa il bagno, ma Santa Brigida purtroppo non ha niente da offrirgli dal bere e quindi trasforma l'acqua in cui aveva fatto il bagno in birra e lo può dissetare. Mentre Santa Arnolfo durante la trasposizione delle sue spoglie, più di 5.000 pellegrini e fedeli seguono questa trasposizione che avviene a luglio e hanno caldo e sete. Ma passano attraverso un paese dove c'è un'osteria che ha un unico boccale di birra che per miracolo ovviamente, come nella moltiplicazione dei panni e dei pesci, basta per dissetare più di 5.000 fedeli. Perché questo? Perché in realtà c'è un motivo di natura igienico-sanitaria. Nei paesi del nord molto spesso sia i religiosi, quindi che hanno un ruolo istituzionale, sia le stesse istituzioni, anche i re, suggeriscono oppure ordinano di consumare birra anche se c'è acqua. Il motivo è che l'acqua in quel periodo, in determinati periodi, può essere un veicolo di epidemie. Mentre la birra non lo è, perché la birra per due motivi può essere un prodotto più sano, nel senso che non fa male, non che fa bene. Perché? Uno perché il processo di produzione della birra è un processo che avviene a caldo, cioè per la trasformazione del malto in birra si ottiene il mosto, il mosto si ottiene con un processo a caldo, perché sono le temperature ideali, perché le amilasi che sono presenti nel malto d'olzo diciamo stacchino dalla catena dell'amido tutti gli zuccheri che poi possono essere trasformati in alcol dai lieviti. Per interrompere questo processo il mosto viene bollito, quindi tutto quello che c'era prima poteva essere interrotto. Tutti i processi, tutti i microrganismi che potevano essere presenti prima vengono interrotti. Poi sono saccharomice cerevisia che comincia a fare la fermentazione alcolica e quindi quel po' di alcol che fa, le birre antiche avevano poco alcol generalmente, però quel po' di alcol serve per preservare la birra da una successiva contaminazione. E quindi veniva consumata e anche consigliata di essere consumata anche dai bambini, per esempio, tutti dovevano consumare birra anziché acqua in quel momento. Ma andiamo avanti, abbiamo un alimento, prima la classifica. Ah, new entry. Davide Birraio è entrato in classifica, stranamente con questa domanda. Eccoli i due santi che trasformano l'acqua in birra. Abbiamo quindi l'ultimo alimento, che è lo yogurt. Quindi chissà chi è entrato nella storia dello yogurt. Chi non ha mai fatto l'aperitivo con uno yogurt? Teopatra forse, può essere. Ma anche solo in mano il Magnifico o anche il letterato di George Hugo. Andiamo a vedere che è stato. A te è capitato? Forse sì. Si può provare. Si può provare. Si può provare. Siamo a 113 risposte, vediamo chi la vince. Ci siamo. Solimano il Magnifico ed è anche la risposta esatta. Hai di solo sette. Allora, Solimano il Magnifico. Siamo a fine 400, quasi 1500. L'impero ottomano è al suo massimo splendore, anzi lo porta a lui al suo massimo splendore, innovando. Innovando moltissimo, aprendo la mente, in tema politico e non politico, in maniera pratica, prendendo territori, e anche con qualche nuova alleanza, fino ad allora mai praticata dai regnanti di quell'epoca, perché lui è un infedele, non cristiano, si allea con il sovrano di Francia, quindi un sovrano cristiano, Francesco I. Da questa alleanza politica ne traggono giovamento entrambi, perché tutti e due sostanzialmente hanno un nemico in comune, il Giasburgo, ma Francesco I ne trae un giovamento anche dal punto di vista della salute. Allora, di questa storia ci sono tantissime versioni, e qua ne proponiamo una, ed è questa. Allora, Francesco I, sovrano, onnipotente, potete immaginare, la Francia di quell'epoca, inizia a soffrire però di un male, anche qui molte versioni, diciamo che quella più diffusa dice gastroenterite, ma da gastroenterite che tutti i medici del regno non riuscivano a curare, e lui si stava consumando. Allora, anche se un po' riluttante, chiede consiglio all'alleato, perché ha detto la medicina dalle vostre parti è diversa che dalle nostre, vuoi mai che si trovi la soluzione? Allora, Soleimano il Magnifico, pare gli abbia mandato una nave con il proprio medico di corte e una capra. Arrivano alla corte di Francia, il medico munge, la munge lui la capra, non toccatela agli altri, e lontano da occhi indiscreti, versa nel latte qualcosa. Il latte si trasforma, sembra magia, si trasforma in qualcosa di molto più viscoso, fresco, gusto acido, quindi un antenato dello yogurt, di fatto, e a furia di assumere questo alimento, insomma, Francesco I guarisce, laddove nessuno dei suoi medici era riuscito a guarirlo. Immediatamente battezza questo antenato dello yogurt il latte di vita eterna. Quindi lo yogurt entra in Europa a fine 1400 come latte di vita eterna. La cosa curiosa e intrigante è che questa aura di longevità gli rimarrà anche quando lo si comincerà a studiare in maniera più scientifica. Passano 400 anni, arriviamo a fine 1800 all'Istituto Pasteur e c'è un personaggio, uno scienziato di cui è impossibile non innamorarsi, che è Ilya Mechnikov, che è un personaggio eccessivo, istrionico. Il braccio destro di Pasteur lo chiamava il demone della scienza, perché quello era il suo temperamento, quello era il suo aspetto. Era senza dubbio un visionario, ha preso delle topiche clamorose, ma ha avuto anche delle visioni incredibili, infatti prende anche un Nobel per la medicina, per alcune di queste visioni. E sullo yogurt cosa pensa? Pensa a questa cosa, che è la chiave per la longevità. Lui dice sostanzialmente se lasciate la carne lì, imputridisce. Se lasciate il latte lì, non imputridisce, ma diventa yogurt. Quindi l'acidità, e lo yogurt ne è un testimone, in qualche maniera è l'antidono alla putrefazione. Ora, lui sosteneva che noi invecchiamo perché ci sono dei fenomeni putrefattivi all'interno del nostro intestino. e quindi la sua idea era mangiare fermenti che acidificano molto e questo può essere fatto in una matrice alimentare come lo yogurt, fa arrivare là l'antidoto alla putrefazione e quindi ci fa vivere più a lungo. Ora, poi, non è esattamente così, però se vogliamo, in questa visione ci sono due linee tracciate proprio per il futuro, che è il futuro di adesso. Una linea è che l'intestino abbia un ruolo sulla salute del nostro organismo al di là delle funzioni intestinali e questo è un campo che è in enorme sviluppo a livello di studi proprio in questi anni, da un decennio, ma forse di più, ma è veramente in salita. E l'altra è l'intuizione che gli alimenti fermentati, alcuni alimenti fermentati, possono far qualcosa di utile all'interno dell'intestino. Se noi pensiamo a come stanno crescendo anno su anno gli studi sull'equilibrio del microbiota intestinale, beh, allora, assomiglia a qualcosa. Non era come l'aveva vista lui, ma indubbiamente era, in questo caso, davvero un visionario. E con questo abbiamo... E quindi noi abbiamo... Vediamo anche però Solimano il Magnifico. Eccolo lì. E adesso facciamo la classifica. Vediamo la classifica finale. Il podio. E... Marco Gini. Allora... Si palesino. Un applauso. Ci sono? Ci sono? Allora, la proposta che abbiamo è di fare la premiazione alla fine dell'incontro perché ci sono effettivamente i premi e se ci sono Marco G, Sil e Sam, rimanete. Intanto fatevi vedere. Dove sono? Ah, ecco. Uno, due, tre. Sono tutti in sala. Facciamo un applauso a loro, mentre qua mettiamo le sedie. Benissimo. Poi ci racconteranno chi sono. Ma adesso, prima di fare questa premiazione, vorrei chiamare sul palco due ospiti che ci aiuteranno ad andare un po' più nel dettaglio delle cose che abbiamo raccontato oggi e che sono il professore Erasmo Neviani che è docente di microbiologia agraria dell'Università di Parma, Dipartimento di Scienze degli Alimenti. Professore, si sieda lì e mezzo. E Massimo Nurisso, direttore commerciale di Christian Anse, Italia. Alessandra Antonella, se volete sedervi anche voi, io sto qua in piedi e vorrei partire subito chiedendo al professore che è conosciuto nell'ambiente per essere il punto di riferimento nazionale e forse anche internazionale della microbiologia agraria. No, no, finché non ha il microfono io posso dire quello che voglio. No, io vorrei, visto che abbiamo finito, l'ultima domanda era sullo yogurt. Lei è esperto di fermentazione, in particolare nel settore del latte, detta proprio così. Io vorrei che però lei ci aiutasse a costruire, a partire da lì, quindi dalla storia e arrivare all'oggi. Quindi una sorta di scenario di quello che è l'universo della fermezza. So che è difficile, perché insomma, però immagino che sia abituato a parlare di queste cose. L'avrà fatto un paio di volte nella vita, le sarà capitato. Un pochino. Beh, intanto grazie, grazie agli organizzatori, simpaticissima, molto interessante questa iniziativa. chiamare un microbiologo, sì, microbiologo rario, ma in realtà sono microbiologo degli alimenti, a parlare di microrganismi, di fermentazione, insomma, proprio chiamarmi a nozze. Microrganismi, sono i grandi amici, sono la forma di vita più diffusa e più diversificata che noi troviamo sul nostro pianeta. Importante diversificata, lasciatemi citare il maestro Darwin, che rimane, sono capaci di adattarsi, evolvono, sopravvive chi è in grado di evolvere e non chi è più forte. Questo ci insegna a dare. I microrganismi l'hanno imparato subito. Colonizzano tutti gli ecosistemi che sono intorno a noi. Anche quelli più strani, a cui noi non pensiamo. Io ho dei colleghi che lavorano sui microrganismi nella sabbia dei deserti. Il ruolo dei microrganismi contro la desertificazione dei terreni. La capacità di organizzare all'interno del terreno delle reti che favoriscono la possibilità di trattenere l'acqua. Avete citato poco fa il microbioma umano. Il microbioma umano sulla nostra pelle, ovunque. Il microbioma intestinale. Dieci volte, si dice, più microrganismi che cellule umane nel nostro corpo. Almeno cento volte più DNA microbico che il DNA umano. La domanda filosofica che poi vi lascio è siamo noi gli ospiti di questo grande gruppo di microrganismi o sono loro che sono ospitati nel nostro? Chi comanda? Chi fa le decisioni? Hanno un'incidenza molto probabilmente su molti degli aspetti anche celebrali della nostra vita. Non soltanto per la salubrità a livello intestinale. Quindi estremamente va riegato il mondo dei microrganismi che ci circonda. Chiaramente gli alimenti li avete citati molto bene prima. Attenzione, i microrganismi non ci fanno un favore. I microrganismi si sviluppano per via fermentativa perché hanno bisogno di energia per moltiplicarsi e crescere. L'uomo ha osservato qui la storia è molto variegata dai sumeri e gli egiziani. Più si studia più si trovano indicazioni nell'antichità dell'origine degli alimenti fermentati. L'uomo ha osservato che in alcuni casi la fermentazione favoriva la conservazione. È un sistema per conservare. Fermentare il latte e fare lo yogurt e il formaggio era un sistema per conservare il latte tutto sommato. Fermentare la carne e fare il salame permetteva di prolungare, di inibire la potrefazione e quindi di conservare gli alimenti. ma sono state visioni empiriche inizialmente poi piano piano l'uomo ha imparato a capire con la tecnologia come indirizzare come aiutare i microrganismi a fare prodotti salubri perché inibivano le putrefazioni alternative buoni perché indirizzavano le attività enzimatiche che davano origine a sapori aromi a noi graditi probabilmente lo yogurt di oggi non è quello dei sumeri avevano probabilmente un gusto differente anche la birra che ha tradizioni antichissime però probabilmente non era la stessa bevanda come il formaggio quindi indirizzare con la tecnologia le fermentazioni e attività dei microrganismi è stato citato poco anzi il formaggio grana le fermentazioni butir che danno origine a confiore tanto vivo quindi non tutte le fermentazioni sono positive la fermentazione scerichia colida coliforme anzi fa un sacco di guai quindi l'uomo diventa determinante nel capire studiare e indirizzare tramite delle scelte tecnologiche ma non solo gli alimenti se qualcuno di voi ha avuto il piacere di visitare Expo c'erano i padiglioni dei paesi orientali la Corea si entrava in un mondo di fermentazioni antichissime a noi non note fermentazioni vegetali fermentazioni di substrati di diversa natura che fanno parte di una tradizione e di una cultura che c'è lontana noi siamo abituati qui nella pianura padana ad avere la nostra storia ma c'è molto intorno e quindi un mondo da valorizzare grazie ai microorganismi nel mio gruppo a Parma in particolare la professoressa Bottari che è un collega ha fondato il gruppo di microbi amici il motto è che noi dateci qualcosa ve lo fermentiamo qualsiasi cosa abbiamo una collezione di microorganismi enorme in grado di essere utilizzata poi quali siano gli scopi dipendono dalle indicazioni anche del periodo in questo momento noi dobbiamo trovare il modo di recuperare sottoprodotti scarti ecco i microorganismi possono essere estremamente utili nel fermentare anche quello che in passato non era interesse fermentare che oggi grazie a una situazione che si è modificata del nostro ecosistema noi insieme ai microorganismi condividiamo l'ecosistema dobbiamo imparare a collaborare per sopravvivere insieme e quindi utilizzarli al meglio e nell'utilizzare al meglio la fermentazione è lo strumento direi principale grazie professore è un altro troppo lungo no 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 ma anzi potrei parlare la passione ma ci mancherebbe ma infatti ma meno male tra l'altro mi ha fatto venire in mente che qualche anno fa è venuto qui al festival un archeologo che va alla ricerca dell'origine degli alimenti in particolare del vino della birra è andato a infilarsi dentro a tombe sumere eccetera e aveva ricostruito la ricetta di quella protobirra chiamiamola così e l'ha anche riprodotta e ce l'ha fatta bere terribile veramente imbevibile per cui fa pensare che effettivamente si può lavorare sulla fermentazione si può lavorare sul controllo anche del processo ed è quello che vorrei chiedere a Massimo Nurisso perché voi in azienda di fatto fate questa cosa qui cioè cercate di cercateci riuscite anche a controllare il processo a modificarlo per direzionare la fermentazione dove volete andare voi se hai voglia di ti do del tu scusami se hai voglia di raccontarci un po' quello che fate in azienda e come lavorate su questo controllo sì volentieri grazie sono contentissimo di essere qua perché la fermentazione mi appassiona questo ci accomuna tutti qua sul palco come penso si veda e in particolare io ho iniziato a occuparmi della fermentazione il ruolo della fermentazione è la trasformazione del latte finito l'università sono andato a lavorare in caseificio un'azienda agricola un piccolo caseificio e ho fatto anche due stagione al peggio in Val d'Aosta cosa c'entra questo perché producevo fontina della Val d'Aosta D.O.P e una volta al mese più o meno i tecnici del consorzio del D.O.P venivano in azienda entravano in cantina e controllavano tutte le fontine prodotte per essere sicuri che corrispondessero agli standard di qualità venivano con il loro martelletto battevano guardavano assaggiavano per essere sicuri la prima stagione ho avuto il 90% di forme autorizzate a D.O.P bene ma non benissimo perché vuol dire che il 10% si poterano vendere come D.O.P e quindi si potevano vendere a un prezzo molto più basso quindi il proprietario dell'azienda non era contentissimo di questo secondo anno migliorato vado a vedere il risultato 97% molto meglio il proprietario molto più contento però mi sono anche reso conto che molto meglio di questo non si poteva fare per un motivo molto semplice eravamo in alpeggio le vacche facevano la transumanza e questo camminare in salita era 2000 metri molto intenso provocava un affaticamento che aveva un risultato deleterio sulla qualità del latte in particolare sulla composizione ma anche sulla microbiologia sul microbiota del latte crudo e quindi quel latte lì trasformarlo in formaggio era molto molto difficile per non dire se non usando certi accorgimenti non autorizzati dalla DOP impossibile quindi per due tre giorni dopo la transumanza quel latte era praticamente impossibile trasformarlo in fontina di DOP per un problema di fermentazione la fermentazione lattica a carico ai batteri lattici non avveniva in maniera corretta quindi subentravano altre fermentazioni da parte di microorganismi alteranti i formaggi gonfiavano diventavano amare non erano buoni eccetera eccetera da lì in avanti ho avuto la fortuna di potermi occupare di quello che mi piace che è appunto questo nel lavoro che è la più grande fortuna che si possa avere oggi lavoro per questa azienda Christian Hans è un'azienda danese internazionale che ha più di 145 anni di storia e ci occupiamo di questo da parecchio tempo quindi questo cosa vuol dire vuol dire trovare i microrganismi giusti che servono per fare le fermentazioni utili a trasformare una certa materia prima nel prodotto nell'alimento nella bevanda che si vuole consumare detto così è molto semplice nella pratica si tratta di utilizzare la scienza quindi la ricerca abbiamo degli scienziati tra i nostri colleghi ma non lavoriamo da soli per esempio abbiamo delle collaborazioni attive con diverse università e istituti di ricerca anche con l'università di Parma questo ci consente di capire quali sono i microrganismi giusti come si caratterizzano cosa fanno e cosa non fanno una volta che li abbiamo identificati noi abbiamo una collezione di circa 40.000 ceppi diversi poi se abbiamo tempo magari spieghiamo anche cosa vuol dire ceppo eventualmente e da questi partiamo per identificarli caratterizzarli capire quali vanno bene e quali vanno meno bene poi li prendiamo usciamo dal laboratorio e andiamo a produrli produrli cosa vuol dire la nostra azienda dal punto di vista produttivo è uno stabilimento anzi diversi stabilimenti all'interno dei quali ci sono potete immaginare dei grandissimi vasetti di yogurt di acciaio inox di decine di migliaia di litri lì dentro mettiamo il microrganismo che abbiamo selezionato gli diamo da mangiare e facciamo sì che si moltiplichi si moltiplica e si moltiplica fino a raggiungere una popolazione molto molto concentrata quindi un numero di cellule batteriche vive che è quello che ci serve dopodiché questo chiamiamolo yogurt viene separato la parte che è uno scarto dalla parte che sono i batteri la parte che sono i batteri poi vengono stabilizzati con il freddo vengono disidratati vengono confezionati e poi finiscono agli stabilimenti di produzione di produzione di yogurt di formaggi ma anche di salumi piuttosto che di birra se andiamo a parlare di altri tipi di microrganismi eccetera eccetera quindi questo è quello che che cerchiamo di fare magari giusto una definizione di ceppo ho usato questa parola parliamo di microrganismi parliamo di batteri lattici se pensiamo al batterio lattico più consumato da tutti noi lo stettococcus termophilus stettococcus salivarius termophilus giusto? per gli amici gli diamo 30 ci ha mento adesso ci lavoriamo questo è genere e specie e subspecie in questo caso però ce ne sono tantissimi individui diversi e li chiamiamo questi individui ceppi la differenza fra un ceppo e un altro della stessa specie a grandi linee per darvi un'idea è la differenza che passa fra due razze di cani io ho due streptococcus termophilus però uno sarà un chihuahua e l'altro sarà un pastore tedesco quindi se io vado a capire quale fra i miei ceppi fra i 40.000 che ho è un chihuahua e quale è un pastore tedesco saprò se cerco un cane da compagnia andrò da quello lì se cerco un cane da guardia andrò da quello là questo è il lavoro estremamente semplificato che fanno i nostri colleghi della ricerca il lavoro successivo è produrli su grande scala e andarli ad utilizzare in modo tale che poi lo yogurt abbia la giusta caratteristica di sapore di struttura che sia più dolce più acido più denso più cremoso piuttosto che il formaggio che abbia una certa consistenza un certo sapore che possa conservarsi di più o conservarsi di meno grazie Massimo Nurisso io mi aggancio a questa storia e al nostro percorso che è partito dal passato ma che vuole andare vuole andare verso il futuro per chiedere ancora a professor Neviani un commento un racconto su un tema di cui in questi giorni al festival stiamo parlando tantissimo che è quello della sostenibilità in generale non tanto sostenibilità intesa come parola vuota di cui si fa spesso un abuso ma come applicazioni concrete che vengono messe in campo dalle aziende dagli agricoltori da tutti i vari esponenti della filiera agroalimentare quindi vorrei capire se la fermentazione può avere un ruolo all'interno di questa ricerca di un minore impatto insomma chiamiamolo così non chiamiamola sostenibilità sì è una domandona la faccio a lei mica no nel senso che giustamente sicuramente sì allora sostenibilità per noi vuol dire riuscire a dar da mangiare una popolazione che cresce e cresce in maniera differente nei diversi posti del mondo dargli il cibo sano dare la garanzia dell'accesso al cibo perché questa è la priorità ma che sia cibo sano per tutti e darlo in modo che il pianeta non esaurisca giustamente le sue risorse io sono certo che con la scienza e con la tecnologia troveremo delle soluzioni e tra le soluzioni la fermentazione è una di queste proprio perché abbiamo un patrimonio di microorganismi diversificati di varicepi di diverse specie tenete conto che il patrimonio microbico è immenso e continua a essere modificato quindi la nostra capacità di selezionare di scegliere il microorganismo utile ad uno scopo è veramente enorme e possiamo cominciare a pensare a che cosa fare per rendere più sostenibile la produzione di alimenti c'è tutto il tema del recupero degli scarti molta della ricerca che stiamo facendo in questi anni è la capacità di utilizzare degli scarti dei sottoprodotti dell'industria alimentare e che invece di essere buttati oppure con spreco comunque di energia fermentarli per ottenere nuovi prodotti alimentari nuove molecole molecole che possono essere ad esempio interessanti sia in campo medico ma anche in campo produzione di aromi o produrre energia o produrre biomassa e in ogni caso trovare il modo di diminuire l'impatto ambientale derivato da questo scarto esempi vi posso fare stiamo lavorando per rifermentare le croste del pane che a volte vengono scartate otteniamo degli ottimi prodotti abbiamo delle collaborazioni in atto mi sembra strano visto una birra fatta in questo modo assolutamente adesso abbiamo dei colleghi che fermentano la pappa reale che fermentano il miele che fanno l'idromiele cioè ci sono studi diversificati poi la resa economica va studiata va studiata e va considerata in un sistema molto diverso voglio dire la pianura padana è diverso dei territori sconfinati del Sud America o dell'Africa certe cose che sono sostenibili qua non lo sono là il consumo porta a porta il chilometro zero nel centro dell'Argentina non ha lo stesso significato che intorno a Parma quindi dobbiamo essere in grado di utilizzare di provare utilizzare le soluzioni giuste i microrganismi giusti perché devo parlare di microrganismi per ottenere per proporre delle soluzioni innovative adatte alle diverse la fermentazione di vegetali noi stiamo fermentando frutti bacche le buccette del pomodoro adoro questa cosa in questo territorio le bucce dei pomodori sono uno scarto che se fermentato può dare aromi biomassa prodotti poi l'ottimizzazione del percorso tecnologico andrà discusa voglio dire il siero è stato citato poco anzi che ormai non è più per questioni economiche uno scarto anzi è quasi quasi stato un periodo che il formaggio era un sottoprodotto del siero perché veniva riutilizzato in tanti modi ma c'erano delle bevande fermentate a base di siero nel nord Europa che venivano consumate e nei nostri paesi non c'è stato verso ai consumatori non piaceva quindi la ricerca di soluzioni di questo tipo permette poi di articolarle in relazione ai diversi territori e alle diverse popolazioni ma il problema rimane quello di trovare soluzioni che rendano meno oneroso l'impatto ambientale delle produzioni alimentari non solo delle produzioni alimentari in realtà il problema più alto i microorganismi possono essere una soluzione anche al di fuori del settore alimentare ripeto abbiamo trovato i microorganismi che puliscono gli arazzi che aiutano nella piazza di fianco a Pisa hanno trattato con dei microorganismi le superfici dei muri per togliere degli scarti e hanno trovato che in questo modo era più facile trattare e pulire dei colleghi di microbiologia agraria noi siamo faccio il tifo per la mia categoria quindi sicuramente dalle fermentazioni impariamo anche come dicevo prima dalle culture diverse dalla nostra che fermentavano matrici che per noi erano inusuali quindi le soluzioni ci sono bisogna trovare il modo di renderle economiche facendo delle scelte tecnologiche e in questo contesto avere delle collezioni microbiche delle possibilità diversificate di utilizzare microorganismi capaci di fare cose diverse è estremamente importante facilita molto la possibilità di riuscire ad applicare queste idee effettivamente nell'economia reale il professore ha parlato a un certo punto di consumatori a cui non piacevano le bevande fermentate a partire dal siero e devo dire che lo capisco anche perché comunque già l'idea non è che almeno per noi forse questa cultura qui fa un po' strano così come faceva strano il kimchi coreano poi adesso va molto di moda quindi io vorrei fare una domanda che faccio a Massimo Nurisso ma anche poi alla nostra coppia Antonella e Alessandra da due punti di vista diversi da un lato come voi come azienda che non vendete direttamente al consumatore ma vendete ad altre aziende che poi vendono al consumatore quindi quali sono le sfide che voi vedete per il futuro quali sono le nuove direzioni in cui voi che dovete arrivare un po' prima cioè dovete anticipare i bisogni dei consumatori o comunque intercettarli all'inizio per riuscire a proporre ai vostri clienti dei prodotti che poi siano competitivi sul mercato e poi dopo ad Alessandra e Antonella chiederò qualcosa di più sulla comunicazione proprio quindi su quello che arriva al pubblico per cui Massimo Nurisso sì non credo che abbiamo abbastanza tempo per parlare tutto quello che la fermentazione può darci nel futuro già solo i pochi flash che ci ha dato il professor Neviani ci danno l'idea di quanto si può spaziare e quanto spazieremo noi vogliamo fare molti festival ancora benissimo allora prenotiamo un posto fisso un appuntamento fisso tutti gli anni no sicuramente ci sono due tipi di innovazioni se parliamo di innovazioni no un'innovazione nell'ambito che si conosce già quindi ad esempio abbiamo parlato di prodotti caseari di bevande fermentate eccetera si può migliorare o modificare c'è l'esigenza di migliorare o modificare gli alimenti e le bevande che già si producono oggi dandogli delle caratteristiche diverse o aggiungendo delle funzionalità diverse se parliamo di nuovo solo per fare l'esempio dei lati fermentati gli yogurt di cui parlavamo prima abbiamo detto prima durante il quiz che la fermentazione lattica ha avuto successo si è sviluppata perché era un modo di conservare alimenti ricchi ma altrimenti deperibili e si è scoperto la scienza ha scoperto che i batteri lattici conservano ad esempio il latte fermentato non solo grazie all'acidità che producono ma anche grazie ad alte funzionalità sono nate le cosiddette colture di bioprotezione cosa vuol dire la protezione di un certo alimento fermentato non grazie dei conservanti chimici ma grazie a dei microrganismi selezionati specificatamente non per la loro capacità di fermentare ma per la loro capacità di proteggere l'alimento da determinati contaminanti alteranti questo tra l'altro si collega anche al discorso della sostenibilità perché nel momento in cui conservo un alimento per più tempo si è visto chiaramente diversi studi dimostrano che allungando questa famosa shelf life nel momento in cui è un limite di utilizzo ottimale avendo una shelf life più lunga questo consente di ridurre lo spreco degli alimenti confezionati ad esempio nei yogurt e lati fermentati circa il 20% pare di questi prodotti vengono scartati prima dell'utilizzo e la cosa principale è proprio la data di scadenza nel momento in cui si riesce ad allungare questa con soluzioni naturali perché poi abbiamo batteri lattici sicuramente ha un piccolo ma significativo impatto su tutta quanta la catena innovazioni come queste ci sono pensando al consumatore l'incrocio culturale come diceva il professore prima è fondamentale prodotti di altre culture che magari non incontrano il gusto tradizionale di un certo paese ma incontrano l'interesse e la curiosità magari dei consumatori più giovani questo è quello che si vede chiaramente stili di vita stili di alimentazione che sono relativamente nuove ad esempio per paesi molto tradizionali come il nostro tipo gli alimenti fermentati a base vegetale hanno un successo anche di consumo enorme quello che noi cerchiamo di fare è una cosa molto semplice non essendo non vendendo il consumatore finale cerchiamo di parlare con i nostri clienti che invece vendono a tutti noi ai consumatori finali parlando con loro e poi utilizzando ovviamente aziende di consulenza che riescono a capire quali sono poi i trend di consumo del futuro cerchiamo di capire quali sono le caratteristiche degli alimenti che il consumatore cercherà nel prossimo futuro fra cinque anni questo è l'orizzonte su cui cerchiamo di lavorare e in questo modo ripartendo dai nostri 40.000 ceppi andiamo a caratterizzarli per delle funzionalità diverse che sono quelle che penseremo che serviranno l'altra cosa è l'innovazione in campi completamente diversi anche qua mi riallaccio quello che è stato detto prima una cosa solo che voglio citare ce ne sarebbero diverse una che voglio citare è la cosiddetta protezione delle piante quindi andiamo nell'ambito dell'agricoltura ma ha un potenziale enorme di nuovo sulla sostenibilità infatti si sa da molto tempo la scienza ce l'ha detto e si sta approfondendo la conoscenza di questo i microorganismi giocano un ruolo fondamentale nella nascita e nello sviluppo anche delle piante e dei vegetali noi abbiamo isolato e caratterizzato dei ceppi microbici che sono in grado nel momento in cui sono sparsi sul terreno nel momento in cui la piantina nasce e cresce riescono questi microorganismi a proteggere le radici delle piante anche del mais per esempio che vediamo laggiù questo consente di ridurre in alcuni casi eliminare completamente l'utilizzo di antiparassitari nel terreno con tutti i benefici che possiamo pensare ci sono altri microorganismi che vengono utilizzati per esempio sulle foglie perché anche sulle foglie delle piante c'è una grande quantità di microorganismi che aiutano le piante ad essere forti a proteggersi a crescere forti e rigogliose lavorando su questo con l'obiettivo di ridurre l'utilizzo di sostanze diciamo così non naturali che poi come si sa nulla si crea nulla si distrugge tutte le sostanze chimiche che vengono utilizzate in natura non scompaiono ma finiscono da qualche parte e ognuna spesso ha il suo contributo nel riscaldamento climatico eccetera e cerchiamo di fare il nostro piccolo lavoro mettere un piccolo tassello in questo grande lavoro che cerchiamo di fare tutti quanti insieme sulla sostenibilità e la comunicazione Antonella Losa e Alessandra Biondi Bartolini in poche battute che poi abbiamo la premiazione quali sono le sfide della comunicazione di questo settore vedete voi chi parla delle due anche il coro se volete allora io parlo da ho molta più esperienza per quanto riguarda forse si è capito l'uso dei microrganismi dei lieviti selezionati sul vino sul quale la comunicazione al consumatore di vino è estremamente importante diciamo con l'esperienza in quanto il fatto diciamo l'uso di controllo e di microrganismi selezionati o l'uso di l'applicazione di fermentazioni spontanee è diventato negli ultimi anni un fra virgolette un tema caldo quindi nell'ambito della comunicazione quindi c'è gradualmente mi sono resa conto che c'era necessità di fare chiarezza e quello che abbiamo fatto poi è anche una strategia derivata da queste osservazioni e la mia conclusione è stato che c'era necessità di fare chiarezza sul ruolo dei microrganismi e sul mondo dei microrganismi perché quello che mancava era proprio quello che diceva il professor Neviani prima di capire che i microrganismi fanno il loro lavoro indipendentemente da noi e quindi quello che noi applichiamo è un controllo ma il microrganismo di essere un microrganismo in una fermentazione spontanea o di essere stato selezionato non lo sa quindi nel senso non c'è una grossa e anche il microrganismo selezionato poi in quello che abbiamo cercato di spiegare anche le nostre attività il microrganismo selezionato diciamo che un tempo viveva libero quindi siamo noi che poi applichiamo un sistema di controllo ecco conoscere quello che è il mondo dei microrganismi la complessità del mondo dei microrganismi perché anche nel controllo poi è aumentata la complessità il giusto per dire delle i microrganismi selezionati i lieviti cioè saccharomyce cerevisiae selezionato le culture selezionate sono arrivate praticamente pochissimi decenni dopo il lavoro di Pasteur cioè all'inizio del novecento c'erano già delle aziende che vendevano e producevano colture selezionate di lieviti le ultime diciamo adesso diciamo da pochi decenni ma da un decennio non di più invece la frontiera è quella di aumentare la complessità anche nei sistemi di controllo e quindi non soltanto di utilizzare saccharomyce cerevisiae ma di aumentare e per riprodurre quello che è una fermentazione ma in modo controllato anche di utilizzare altre specie altri generi che comunque nell'ambiente del vino e dell'uva sono presenti e quindi adesso si utilizzano anche quelli che si chiamano microrganismi non saccharomyces in un mondo che è molto saccharomycetocentrico quindi si chiamano non saccharomyces ma sono estremamente diversi anche fra di loro sono specie e generi diversi che fanno qualcosa quindi spiegare la complessità è dal mio punto di vista è diciamo una delle strategie migliori per avvicinare al mondo dei microrganismi che mondo bellissimo mi fa venire la nostalgia per il mio passato da biotecnologa però adesso passa e no però intanto vabbè vi ringrazio tutti per averci dato questa prima pennellata mi viene da dire di complessità perché insomma abbiamo attraversato quante centinaia di anni di storia in questa oretta che abbiamo passato assieme e abbiamo capito che c'è ancora tanto da scoprire nel laboratorio del professore in azienda ma anche a livello di comunicazione tantissimo da raccontare perché i temi del microbiota adesso siamo solo all'inizio dice il professor Neviani con tono minaccioso cioè possiamo fare ancora un centinaio di puntate del podcast ma anche di più un centinaio di puntate del podcast che ricordiamo si chiama c'è fermento allora io chiamerei sul palco prima di fare un applausone finale ai nostri ospiti ma chiamerei sul palco i tre vincitori anzi primo, secondo e terzo se ci sono ancora fatevi vedere venite qua sul palco adesso cerchiamo di rimetterci anche un po' le mascherine magari venite sul palco perché proclamiamo i vincitori e chiedo a Elia Nipoti di portare i premi venite su sono timidi no ma professore ma rimanga non vuole premiarli ma sì allora intanto un applauso ai vincitori chi è Marco G sei tu allora Marco G Sil Sil Sam ok magari il primo fa il professore no? va bene se il professore che cosa c'è in questi in questi premi ah ce lo dice Elia ok perfetto e beh sì glielo ho dato il professore qua dovremmo mettere la musica tipo di we are the champions Elia e voglio di puoi raccontarlo ci sono dei gadget Christian Hansen e poi ci sono dei prodotti fatti appunto con le nostre colture quindi sono dei prodotti fermentati e poi per il primo primo c'è anche appunto un manuale sulla fermentazione per approfondire il tema allora grazie mille Elia complimenti ai vincitori grazie a Erasmo Neviani Massimo Nurisso Antonella Losa e Alessandra Biondi Bartolini e a tutti voi grazie a tutti 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 Grazie.